Gli alpini, caro mio nipote, si impegnano per aiutare gli altri, per aiutare i bambini, per aiutare gli ammalati. Si fanno queste cose per trasmettere il senso di stare assieme, in compagnia, ridere, scherzare, lavorare, parlare, il nostro compito è questo, quello di trasmettere quello che ci hanno trasmesso e che abbiamo dentro, trasmettere questa voglia di fare solidarietà e di aiutare gli altri. Gli alpini a scanto sono questo. Un gruppo che è a disposizione della comunità.